Diona ora allora cosa? aspetta fermi un attimo Mioio what? dove cazzo è Diona qui? dove sono tutte le armi che ho provato Dio? Mioio Mioio, what the fuck are you doing? Ciao, what are you doing? Cazzo Tomai Cazzo Tomai hai visto a Tomai ragazzi Tomai è New Star e New Star is born Mamma mia se mi devi calpestare Meno male che non ho copiato il titolo del film sozzo che mi son visto ieri se no qua erano cazzo no a cazzo sono live l'ho detto e niente ogni tre giorni tutti i pesci adesso vediamo chi ride sto già ridendo rido io infatti che c'è sto ridendo io niente amore tutto ok Dungeon and Dragons oggi ragazzi si va a combattere allora come potete vedere ragazzi oggi la nostra Yume non c'è perché è impegnata dunque il ladro verrà mosso dal nostro dungeon dal nostro dungeon master e forse stavolta si renderà un po' più utile in combattimento non c'è non c'è oddio frustami cioè no smettila di frustarmi per favore mi dissocio da me stessa ragazzi non mi interessa questa la vinciamo no 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 ecco questa la vinciamo no Toc ma quanto sei cute non ti preoccupare Toc grazie comunque mille per le 5 sub ti si vuole troppo bene bacetto in bocca anzi bacetto in fronte in bocca no quello te lo da Franco ah eh mi sa che devo madò meno male che non c'è il doc meno male che non c'è peruccio raga che gli dico sempre che non devono refillare assolutamente e ce ne ha dati tre let's go si porta bal su raga ma che hai refillato ma quando mai tu che ti ha fatto una clip non è vero infatti è una una clip fasulla è una clip che si chiama solo e non hai refill ma in realtà non ho mai refillato fortissima Craig amore non ho mai refillato in vita mia raga never allora marra lascia ti serve il wizzit ok puliamo il wizzit eccolo il wizzit ma che cazzo è? ma perchè? amore come fai la bolla? oh non si vede la bolla dove è la bolla? dall'anima arachita è stramorta è stata una cosa back to back adesso è stata una cosa rapida adesso pretendo addirittura pretendo un back to back ancora vaffanculo però it ragazzi il primo personaggio maschile catena è una climur tanto amore ha una climur enorme raga che trash amore ha una climur che è enorme l'abbiamo vista che trash comunque pep senza la tua influenza positiva questo grancone sta andando malissimo smetti la madonna no no la muove letteralmente però la muove ma che già fai chiede che stiamo schiattast ah no è stato velocissimo non si è visto non si è visto è stato velocissimo chiù testa ma quanto si fa la vista? noo ciao vai ma quanto si fa la vista? basta con ste male gesta ok please noo smettila madonna raga è incorreggibile però amore la smet ahahah 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 classica perché io mi ero fissato con la danza classica perché giocavo con i con le bambole da piccolo mh e c'avevo sta barbie con il tutu oh che carino e io volevo per forza essere come la barbie con il tutu e quanto si fa e quindi mamma mi portò alla scuola di ballo di danza classica ehm l'unica cosa che dissero è che ai maschietti non era previsto il tutu amore mi dispiace io ci rimasi così male che non ci volevo andare più e cazzo era andato la solo per quello mi dispiace tanto c'è io sta cosa me la ricordo c'era una tizia che stava facendo tipo zumba come quella che faccio io a casa ok su un maxi schermo gigante col proiettore ok stava la che faceva così guarda faceva così si fa un due e si un due e un si faceva così no? immaginate io steso lì nell'angolo a fare così no? eh? tutto a posto poi da un certo punto ho iniziato a farlo con le gambe amu ma a parto tu no pirito degno di proprio degno d'orchestra è presente l'orchestra della 2.1 della Mioio? si uguale immaginate però un tamburo non trovo in pratica chi si trova il culo ma hanno trammolato i tarzanelli in pratica amore ah signora sei girata così ma amu ma guardata così ah sì ah 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 raga vi dico solo una cosa siamo andati a fare il tampone oggi no? con Elena e ci sono sta ah vabbè joseph allora forse ci sta dai eeeh mmm siamo entrati lì mhm tutta a posto è una signora allora partiamo dal presupposto ciao Lori siamo entrati in un ufficio eeeh ciao nightless dove dovevamo fare il tampone tutti senza mascherina tutti solo noi con la mascherina tutti quelli là dentro quello là seduto all all'ufficio ciao Alex grazie del follow eh grazie mille per il follow a Carex benvenuto benvenuto è un piacere averti con noi quindi c'era quello là all'ufficio ehm senza la mascherina quello là dentro senza la mascherina arriva la terza che è quella che ci devi fare il tampone sì arriva tutta così ragazzi no mascherina no guanti con un vestitino giro chiappa vabbè tesoro con le calze gli stivali quello che c'entra il fatto sta che non aveva nessun dispositivo di protezione oh allora fa una cosa senza guanti senza guanti apre il tampone lo piglia e la vede che inizia a fare col tampone in mano questo si inizia a tocca ai capelli si sistema il vestito è stato un po' col tampone in mano aperto si non ha fatto di certo così dammi un po' il naso siete negativi potete andare ragazzi ciao ma che cazzo è non ci credo non ci credo non ci credo toc ma sei matto che hai fatto toc sto matto ha appena donato 100 euro mo toc ma tu sei matto ma cosa ciao cornetto asanarco toc ma scusa ma veramente ciao priori incantate o toc ma tu sei tutto strano ma davvero appena tu hai donato 100 euro ma come regalo di natale ciao serenuccia ok raga ma parliamo di cose serie quale si dici prendiamo il rosa cosa fa la c4 andre schifo come tutte le altre dai la c6 è de anche la c0 diciamo che l'ho più o meno le ho cambiato un po' di build ma il livello è sempre uguale i talenti li ho saliti 6 e 6 cosa frankie l'abbiamo cambiato l'arma però che è successo ma a frankie che è successo a frankie è successo qualcosa aspetta cosa aspetta cosa cosa mi è arrivata mi è arrivata adesso la cosa amore l'abbiamo 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 l'abbiamo